salve a tutti penso che è arrivato il momento di mostrare tutta la nostra responsabilità e maturità come l'hanno dimostrata i nostri genitori le nostre le generazioni che ci hanno preceduto durante il sisma dell'ottanta la nostra terra è una terra abituata a lottare e supereremo anche questo momento difficile quindi fate come me restiamo tutti quanti a casa